Allora, piacere. Simone Rimondi, sono consigliere comunale di Civicamente Bazzano. Perché dire no a questa fusione? Principalmente per tre motivi. Uno di merito, uno di strategia e uno di metodo. Il merito è totalmente assente, nel senso che si parla di maggiori risparmi, maggiori entrate, minori costi. È totalmente assente invece la tabella dei costi. Cioè per costruire un risparmio bisogna conoscere quali sono i costi, nuovi e vecchi. Quindi questa non c'è, non esiste, è stata chiesta chiaramente e non è stata fornita. Faccio un esempio. Cosa costa tenere aperto cinque comuni, aprire due nuovi uffici in relazioni col pubblico a Calcareca e a Bortolani, realizzare un nuovo municipio anche se ristrutturato, l'unione dei comuni rimane o si chiude, diventa una polarizzazione di nuove strutture comunali, cosa costa? Non si sa. Cosa costa formare il personale? Cosa costa fare 30.000 carte di identità nuove? Rivedere tutta la toponomastica? Per parlare di risparmi, secondo me, nell'economia aziendale mia, ma in un'economia familiare normale, si fa la sottrazione tra le entrate e le uscite, se il numero è positivo c'è un risparmio, se non c'è vuol dire che ci sono dei nuovi costi, quindi non esiste risparmio. Quindi parlare di risparmi oggi, secondo me, è forviante perché manca la tabella dei costi. La strategia? Perché ci fondiamo? Per fare i banchieri, per andare a prendere delle risorse, dei finanziamenti statali e regionali che forse sono promessi ma non ne sono garantiti? O ci fondiamo perché vogliamo rilanciare la politica sanitaria, servizi sociali sul territorio, una politica culturale, una politica di tutela del territorio, approvvigionando di energie rinnovabili, invece che di centrali a biomasse e di consumo del territorio basato sempre sui vecchi carismi, vecchi sistemi. Questa non c'è una strategia, c'è una corsa accanita ad ottenere delle risorse che serviranno se arrivano solo a coprire i nuovi costi della nuova carrozza che viene costruita. Il metodo, e concludo, è agghiacciante in quanto è stato calato come un mantra sulle popolazioni che bisogna fare la fusione altrimenti c'è il deserto dei Tartiri, i comuni falliscono, eccetera. Non è vero, non è assolutamente vero, occorre fare delle razionalizzazioni, occorre discutere con i cittadini del perché fare la fusione, quali sono i veri motivi che ci spingono a fare questa. A noi sembra che questa fusione sia fatta, sia un'operazione gattopardesca per conservare l'egemonia politica sui territori, quindi cambiare tutto per non cambiare niente. Per questo crediamo che serenamente questi politici che hanno fatto fallire l'Unione dei Comuni possano educatamente accomodarsi, magari lasciare il posto a altri che non credono che i comuni falliranno se non c'è la fusione, ma basta mettere in rete i servizi utilizzando le strutture che già abbiamo come l'Unione dei Comuni. Grazie.